Grazie a voi di essere qui con noi e grazie soprattutto ai nostri ospiti, il regista Davide Manuli e il nostro collega Fabrizio Rocchetto. Non abbiamo molto tempo quindi velocemente e vorrei dirvi qualche cosa intanto di loro due. Davide Manuli è un regista, attore ma non solo. No, non più attore. Non più attore, solo regista? No, solo regista. Ok. Ha cominciato il suo interesse a New York dove ha studiato all'Actor Studio e all'East Strasbourg Institute. Sempre a New York è diventato assistente per un periodo con Al Pacin e Charlie Lawton per la Chal Productions. Poi la sua prima opera, un lungometraggio, The Contenders, prodotto da Milos Forma per la Columbia University in cui è stato anche attore protagonista però. Nel 1993 ha recitato nel film di Mac Newell, Incantevole Aprile, che ha riuscito anche tre candidatori agli Oscar e due Golden Globes, ha vinto due Golden Globes. Nel 1995, questo è importante, è stato finalista al premio Solinas con la sceneggiatura di Giro Tondo, Giro Intorno al Mondo e dal cui poi, qualche anno dopo, ha tratto il suo primo film del 1998. Nello stesso anno un cortometraggio, ci sarebbe molto da dire, ma non abbiamo tempo, Bombay Arthur Road Prison e poi ha pubblicato appunto, dicevo, questo libro poetico fotografico. Bombay ha vinto Bellaria, ci tengo un bel pezzo. Sì, c'è una storia molto intensa. C'era Monicelli in premiazione, ci tengo molto a ricordare. Poi c'è stato assistente anche personale di regista Abel Ferrara, c'era un progetto anche su questo, mi sembrano, con Abel Ferrara. Poi nel 2006 ha girato Inauditi Inuit, che è un documentario di impronta sociale. Nuovamente è l'attore per Peter Del Monte nel 2008, nel film Nei tue mani. E poi il film che ha preceduto questo, quello del 2008, il secondo lungometraggio, Beckett, sempre con Gifuni e Paolo Rossi, che è una sorta di seguito cinematografico al capolavoro di Beckett, Aspettando Codò. Poi, infine, questo ultimo film. Fabrizio Rocchetto, chi è alla mia sinistra, è un nostro collega, membro ordinario della società di psicoanalisi, con la qualifica anche per l'analisi dei bambini e degli adolescenti, è stato perito e giudice onorario al Tribunale dei minori di Roma e è anche docente di diverse scuole di analisi e psicoterapia. Si è occupato recentemente dell'influenza dell'ambiente digitale sulla vita emotiva dei bambini, con particolare attenzione ai cosiddetti digitali nativi, cioè quei bambini e adolescenti che sono nati e cresciuti con queste nuove tecnologie. È curatore di diverse situazioni che hanno a che fare del rapporto tra cinema e psicoanalisi, come il Freud's Bar. Ha pubblicato il volume Buio dentro, L'inchima della depressione nei bambini e adolescenti, insieme alla collega Tabanelli. È anche redattore dell'area dell'adolescenza nel sito della SPI. E poi collabora da anni con noi nel rapporto tra cinema e psicoanalisi, non solo in questa sede, ma anche al Cinema Trevio oppure anche al Festival Disponito. Io vi ringrazio entrambi e lascerei la parola a chi? Io comincio io. Volevo chiedere a Davide se ci dà un po' di numeri. Di? Se ci dai un po' di numeri. Di numeri? Sì, che mi dicevi prima quando ci siamo visti. Dei contatti del film. Ah, sì, no, diciamo la casualità è che in queste ultime due settimane, un bel po' di anni dopo il film, partendo dall'Ucraina il film è tuttora viralizzato per una decina di milioni di persone. ma una roba, diciamo, strana, nel senso che il film è esploso su Facebook due settimane fa e sta facendo circa 8 milioni di visualizzazioni nelle ultime due settimane con centinaia di migliaia di divisioni, centinaia di migliaia di contatti. è richiestissimo da due settimane. Ecco, però il motivo per cui... Ci volevano gli ucraini. Sì, però il motivo per cui ho chiesto di dare i numeri è perché dare i numeri è anche una metafora per uscire fuori di testa, no? Infatti io non conosco Rocchetto ma Rocchetto è qua per arrestarmi. E c'è una battuta che fa il servo nel film quando chiede al prete ma ha i grilli sulla testa e quanto sono grossi i grilli? Io mi ero preparato una serie di cose da dirvi se non che prima sono uscito e c'era fuori un gruppo di ragazzi come si chiamano oggi diversamente abili e guardavo il serviente che c'è qui che dava una mano che dialogava con questi ragazzi e non è facile lavorare con persone che vivono la realtà in un modo diverso da come diciamo noi qui in sala tendiamo a viverla. Io credo che quando ho visto il film di Davide all'inizio ho fatto un piccolo passo indietro perché io mi aspettavo di vedere una storia poi tutti come ha detto anche Fabio prima abbiamo presente il film di Kaspar Hauser la storia di Kaspar Hauser insomma poi se ne parlerà tra poco però quello che mi ha colpito è stato come vi ho detto prima della proiezione questo aspetto sensoriale del film e mi ha riportato a quella che è stata la mia esperienza di psicanalista nel rapporto in particolare con i bambini e mi sono venute in mente le esperienze che ho avuto mi ricordo per esempio di aver avuto un bambino di 4 anni e quando ti portano i bambini piccoli di solito o sono proprio dei catorci nel senso che sono proprio gravi 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 altrimenti i genitori di solito che avrebbero magari bisogno di aiutare i bambini non li portano e questo bambino aveva una caratteristica come sintomo lui diceva solamente i numeri tanto per tornare alla questione dei numeri e parlava con la pubblicità nel senso che se io gli chiedevo come stai lui mi diceva il caffè è un piacere se non è un piacere che piacere è? e una critica a questo film di Davide è che non c'è il profumo nel senso che dal film non esce fuori l'odore della Sardegna è un film in bianco e nero ma il bianco e nero dà più colore e potenza di quello che può avere a volte un film a colori e in questo mi ha riportato mette la parte iniziale di questa rassegna ringrazio senza dire nessuno ma ringrazio per tutti quanti a cominciare anche da Fabio che è qui e gli organizzatori del Palespo il film muto ha una capacità di trasmettere le emozioni che forse da quando c'è il sonoro e il colore non è facile questo è un film molto fisico dove c'è molto corpo sia nella storia ma anche nella sua realizzazione a cominciare dalla colonna sonora e dalla fotografia e abbiate pazienza un ragazzino va dal padre questo a qualcuno forse già la conoscerà e gli dice papà finalmente mi sono fidanzato e dice con chi? dice con Michela dice chi è Michela? è Michela la figlia del farmacista il padre gli fa ma che sei pazzo? la figlia del farmacista ma quella è mia figlia? come è tua figlia? eh sì hai avuto una relazione ma mamma lo sa poi un mese dopo ritorna e fa ah sai papà mi sono fidanzata con Giulia Giulia chi? la figlia della fornaia ma pure quella è mia figlia insomma questo ragazzino non riesce ad avere una ragazzina che sono tutte figlie del padre a quel punto disperato va dalla madre e gli dice senti mamma ma io che cosa devo fare? ogni volta che vado da papà mi dice che è una ragazzina e figlia sua e la madre gli fa ma lascialo perdere quello mica è tuo padre allora perché vi ho raccontato questo? perché il tema che c'è nel film è un tema di estrema attualità cioè io credo che io non conosco Davide l'ho incontrato poco fa però io immagino che per poter realizzare un film di questo tipo ci sia una gravidanza e un parto anche nei particolari nel modo in cui vengono l'attrice Silvia Calderoni che ho impiegato un'ora per capire se era un maschio o la femmina e poi sono andato a vedere e ho scoperto è straordinaria il modo in cui si muove e mi ha portato l'attrice la fisicità degli stati psicotici della mente e dell'autismo cioè i bambini che fanno questi dondolamenti quando esce questa bava dalla bocca voi sapeste quanti nasi o puliti e culetti che c'è un bambino che veniva tre volte alla settimana solo a fare la cacca da me la mia seduta era il gabinetto con quello ma è un modo il corpo anche per portare qualcosa di simbolico e io credo che questo è il grande contributo che ha dato Davide una collega due cose vi dico tre e poi chiudo per giocare subito anche con voi la prima è che il modello teorico orienta la percezione cioè noi abbiamo bisogno di teorie per poter capire dare un significato a quello che succede nei tempi passati prima dell'avvento della psicologia e in particolare della psicanalisi che è una scienza dell'inconscio l'inconscio è il corpo questo è un film dove c'è tanto corpo e tanto inconscio una collega ha detto esiste l'elemento diabolico l'elemento metabolico l'elemento simbolico sono tre termini che hanno in comune il verbo ballo che significa getto l'elemento diabolico attraverso un processo metabolico diventa simbolico quello che accadeva all'epoca e oggi non accade più fortunatamente è che di fronte a dei comportamenti devianti noi possiamo finalmente poter dare un significato cioè quando c'è una sofferenza estrema c'è la possibilità attraverso un lavoro terapeutico di poter dare un valore a questo un esempio per esempio è l'antisocialità l'antisocialità è una richiesta d'aiuto se si interviene prima su queste cose poi quello non diventa un delinquente io sono imbestialito per questa vicenda di quel povero ragazzo che hanno ammazzato i due ma sono imbestialito per Bruno Vespa che ci ha portato il padre in televisione ma chi se ne frega di vedere il padre che questo è lo spettacolo che è la follia che c'è chiudo sul tema della memoria memoria del futuro mi sono fermato un attimo al di là che è il libro di Bion ma che vuol dire la memoria del futuro cioè sembra uno simolo una cosa che si si contraddice e poi i cognitivisti aiutano perché la memoria del futuro è ricordarci delle cose che noi dobbiamo fare dopo dopo ci sarà il film altro film chi può se lo veda ricordare viene da ricardios riportare al cuore allora il ricordo è carne è corpo e io credo che il disorientamento prendendo anche la bazelletta che c'è nel film è che in realtà Caspar Hauser è un personaggio che ha portato disorientamento perché ha messo la parte che in ognuno di noi c'è la parte disorientata che la psicanalisi ci ha aiutato a contattare in contatto che umilmente noi dobbiamo esplorare e io ringrazio Davide per questo questa grande fatica e un ultimissimo una cosa e se io vi dico i gelati sono buoni ma costano milioni chi di voi sa che cosa mi riferisco qualcuno mi alza la mano ho incontrato Davide la prima cosa che gli ho detto uno lo sa sì sì esatto è una canzone però l'ho chiesto a Davide diciamo come la prima cosa che ci siamo detti e mi sembra che ci siamo riconosciuti lì tu cosa hai chiesto cosa significa no no cosa vi no nel senso che noi sconosciuti io gli ho detto i gelati sono buoni ma costano milioni ci siamo come due psicotici ci siamo trovati grazie grazie Fabrizio Rocchetta e cosa devo dire no allora sì posso posso brevemente magari così dire due cose allora ma quello che magari volete sapere com'è che sono arrivato a diciamo a pensare a questo film allora io più o meno venendo dal teatro Kaspar Hauser era una figura trattata molto in teatro perciò era 20-30 anni che avevo qualche suo libro nel cassetto e mi aveva sempre affascinato diciamo l'idea di un giorno provare a fare un appunto in ufficio ho scritto i diari di Kaspar Hauser da 15 anni poi dicendo chissà un giorno ne verrà fuori qualcosa il nel 2000 diciamo che avevo un libro che tra l'altro è uscito una nuova edizione settimana scorsa che si chiama Peter Tradovsky un discepolo staineriano che ha scritto questo libro credo tanti anni fa che si chiama Kaspar Hauser o la battaglia per coscienza spirito non lo so perché in italiano non c'è battle for the spirit la battaglia per non so se spirito coscienza in italiano comunque avevo diciamo questo libro che tra l'altro non avevo mai letto prendo le cose le tengo lì nel 2008 ho fatto un film che si chiama Beckett in Sardegna che è andato benino e la Sardegna era contenta i produttori pure e dopo che era stato in concorso Locarno mi avevano chiesto se avevo voglia di immediatamente rimettermi al lavoro per tornare in Sardegna a vedere se si riusciva a rimontare un'altra cosa a quel punto diciamo che mi è venuta in mente mi è venuta voglia di tornare per tornare diciamo di prendere in mano per la prima volta il materiale su Caspar House e tanto materiale e l'idea è stata quella di lavorare tanti mesi sul diciamo tutto il materiale esistente di Caspar House però la mia idea era quella di provare a ribaltare la storia come un calzino per poi magari riuscire a ritrovarci piede e caviglia dentro il calzino messi pure meglio a calzino ribaltato il quello che mi interessava perché poi un conto c'è il critico anche qua magari diciamo chi analizza o chi critica a posteriori un film ci vede spesso i significati che chi fa il film non è che non ci li vede non ci pensa proprio il 99% della volta le cose piano piano dopo che un film è uscito ti iniziano a arrivare e magari realizzi pure tu che inconsciamente hai fatto una cosa che non era assolutamente chiara diciamo che a livello creativo bisogna avere poi delle cose molto salve dei punti di partenza abbastanza concreti su quale partire il mio era mi interessava proprio diciamo un punto abbastanza elementare era che Rudolf Steiner diciamo da quello che io ho studiato tratta la figura di Kaspar Hauser come un'anima cristica una rincarnazione cristica che avrebbe potuto cambiare le sorti dell'Europa non facendo non facendo scoppiare la prima guerra mondiale il nazismo eccetera eccetera se lui fosse diventato un re detto questo quello che mi interessava era proprio il fatto che Rudolf Steiner dice Kaspar Hauser è un'anima cristica io mi fermo lì diciamo come artista come creativo come regista come sceneggiatore mi fermo lì e dico ok questo mi interessa è un'anima cristica equivale a dire che è un Buddha è un Cristo è un Santo è un Illuminato ok allora questo è il mio punto di partenza per la scrittura se nel mio film voglio che Kaspar Hauser sia un Illuminato un Santo un Cristo o un Buddha allora mi arriva e voglio che mi arrivi dal mare non in una piazza di Norimberga se lui è un Santo vuol dire che vive nel presente non ha memoria passata e non ha memoria futura e non ha memoria del presente perché un Santo non ha neanche un Illuminato non ha la memoria del presente perché vive nel presente in uno stato di io sono beato e cosciente costantemente perciò diciamo che quello che gli indiani chiamano Sat Chit Ananda il perciò diciamo che il punto principale molto semplice era il mio Kaspar arriva e che anche poi è stata la direttiva da dare a Silvia sul set e di solito agli attori ci può essere film carichi di psicologia circostanze date lavoro sull'attore il lavoro con Silvia è stato niente non ti dico niente non devi sapere niente non ti do nessuna direttiva le ho messo giusto l'unica cosa che le ho chiesto qualche settimana prima le avevo messo un microscopico mp3 un microscopico lettore mp3 in una cuffia diciamo incastrato in un paio di cuffie con un brano dentro che lei sentiva ripetizione e quello che le avevo detto era tu nel film non devi ascoltare nessuno nessuno perché tu arrivi senti solo la tua musica perciò non dai retta a nessuno e sei continuamente con la tua cosa basta finisci qua e Silvia diciamo in un certo senso ha fatto questo perciò Silvia tra virgolette diciamo che era un po' quello magari non dico che è arrivata ad essere la santa DJ però è abbastanza ne presente nel film questo poi apposto quello che poi interessava a me era come ti do del tu se vuoi come tu hai detto che Casper era l'elemento disturbante anche questo volevo che ci fosse nel senso che lui doveva disturbare la piccola comunità che viveva sull'isola facendo più che altro da specchio cioè nel senso Casper non fa niente è se stesso vive nel presente e questo è sufficientemente disturbante per gli altri perciò diciamo che Casper non ha fatto niente di male ma dà fastidio agli altri perciò diciamo che piano piano dà fastidio alla duquesse quell'altro deve uccidere e più o meno in teoria doveva gli altri dovevano venire fuori un pochino tramite riflessi che dava Casper senti prima che pubblico ti dica qualche cosa puoi dirci qualche cosa invece sulla musica sulla scelta della musica allora la musica diciamo la musica Silvia ne sentiva una poi l'ha tolta mi ha detto a un certo punto del girato non sentiva più niente il rispetto alla colonna sonora io avevo contattato ci avevo incontrato due anni prima questo compositore francese che si chiama Pascal Arbez H. Vitalik al Branca Leone credo ero andato a incontrarlo per rappresentarmi vedere se fosse interessato e poi ci siamo persi di vista per anni perché ci erano voluti tre anni per montare il film con il Miba che è la regione Sardegna quello che è capitato con le musiche diciamo che è capitata una bella cosa ma non dovrebbe funzionare così nel senso che Pascal cioè Vitalik mi ha dato diciamo che il film le musiche sono tutte originali tranne il brano del DJ set in spiaggia e il brano e il brano di Fine Film che sono lo stesso brano che è un brano edito dall'album di questo compositore di dieci anni fa e molto un pezzo diciamo molto famoso da cento milioni di scarichi su internet negli ultimi dieci anni e quello che è capitato con la musica è che avevamo i due brani editi da usare in presa diretta perché Vincent Gallo anch'io ma anche Vincent Gallo assolutamente mi aveva detto non farmi fare il cretino che mi fai ballare senza musica perché t'ammazzo mi rifiuto di uscire dal camper per recitare perciò quando facciamo la scena abbiamo le casse vere il mixer vero la musica vera mi fai partire la musica veramente io faccio tutto sul serio e il fonico mi regista in presa diretta perciò questo diciamo che per esempio a giorno 1 tra l'altro il giorno che hanno ucciso Bin Laden il primo giorno delle riprese alla mattina del primo giorno di riprese era la scena in spiaggia del DJ set e quel giorno la casa discografica di Vitalik è un'etichetta enorme da Parigi erano un mese che chiedevamo la liberatoria e la licenza per i due brani editi e loro come tutte le case discografiche erano spariti non facendosi sentire perciò quello che è accaduto con le musiche è che alla mattina del primo diciamo su quei due brani abbiamo girato diciamo abbiamo fatto anche lì completamente folli perché abbiamo girato in presa diretta senza avere i permessi della casa discografica ottenuti via mail o via contratto nel senso che se la casa discografica avesse voluto rifiutare girando in presa diretta avremmo dovuto buttare via tutte e due le scene e questo era per quel brano per l'altro brano per tutta l'altra musica invece quello che ha fatto è finito il film quando siamo andati diciamo un mese dopo che c'era stato il laboratorio che aveva fatto sviluppo e stampa bisognava andare a montato nei computer lui non mi aveva fatto ancora arrivare niente e io gli avevo detto se per favore mi faceva arrivare le musiche poiché mi sarebbe piaciuto ascoltarle praticamente mi ha mandato via mail una decina di mp3 il venerdì sera io dovevo andare a montaggio lunedì e ho aperto i 10 mp3 grazie a Dio stando 10 ore a sentirmi e dire sono buoni e funziona anche perché quei 10 mp3 non avrei potuto chiedere a Pascal di rifarli qualora non mi fossero piaciuti ero obbligato a tenermeli obbligato a pagarlo e perciò diciamo è una cosa che non deve accadere in cinema assolutamente grazie molto e se c'è qualche qualche domanda intanto magari che suggestione eccola in cima un attimo arrivo al microfono solo un attimo se è possibile delle domande telegrafiche non abbiamo tanto tempo così magari possiamo sentire più spettatori grazie salve buonasera buonasera le volevo chiedere se lei è stato in quel paradiso in quello lì di Caspar che si vede alla fine dopo la morte dei sensi sotto cassa se le è mai capitato a me? sì sì tante volte sì sì lo trasmette proprio si vede la ringrazio per le emozioni che mi ha regalato proprio in quell'istante in quella fine stupenda c'è stato pure lei allora in quel paradiso c'è qualche altra suggestione? qui al centro buonasera perché hai scelto una donna per interpretare il ruolo di Caspar allora ecco per tre anni c'era un ragazzino doveva esserci un contorsionista russo tra i 14 e i 16 anni a fare Caspar poi questo ragazzino ha avuto dei problemi con il visto per uscire dalla Russia perché l'aveva messo in un carcere minorile e a tre mesi dalle riprese non avevamo nessuno per fare Caspar e io ero molto preoccupato sia per questa cosa sia anche per diciamo far venire Vincent Gallo dagli Stati Uniti non avere qualcosa all'altezza mi sentiva diciamo ero molto preoccupato tre mesi prima mi sono ricordato un giorno di aver visto nel 2006 2004 uno spettacolo teatrale nel teatro Baldocca che si chiama Paesaggio con fratello Rotto a teatro Vascello e in questo spettacolo c'era tante gente nuda piena di gesso cosparso teste d'animali e mi sono ricordato di questo corpicino minuscolo nudo tutto cosparso di gesso con una testa di giraffa ho detto quella cosa là di sette anni fa chi c'era sotto quella testa di giraffa perché era una cosa strana anch'io non ho capito se era un ragazzo o una ragazza mi sono andato a rivedere a informarmi ho chiamato la Valdoca e mi avevano detto che si chiamava Silvia Calderoni lavorava con Motus non più con il teatro Valdoca poi ho chiamato Motus ci siamo visti subito con Silvia e eravamo così addosso alle riprese che quando ci siamo visti con Silvia diciamo era completamente diverso da avere un ragazzino maschio di 14 anni però allo stesso tempo tutto il film è basato diciamo su delle scelte forti che possono piacere o non piacere però diciamo scelte di polso una direzione abbastanza precisa quello che io non volevo era rimanere nella terra di mezzo dire ah non c'è il ragazzino allora facciamo Silvia per come si presentava era secondo me una scelta forte una scommessa ci siamo stretti la mano io a Silvia dicendo boh che succederà ci proviamo non eravamo certi entrambi di quello che sarebbe stato però se non altro io mi sono cioè quando ho visto Silvia mi sono andato a vedere un paio di spettacoli mi sono rivisto tutto il materiale di lei su youtube su internet e insomma Silvia tutte queste cose che fa il casco la contorgione tutte cose che io ho ripreso da teatro cioè lo spettacolo che ero andato a vedere lei iniziava facendo dieci minuti di testate col casco e che diciamo che ho preso un po' di qui un po' di là e poi sapevo che potevo chiederle delle cose sia che era questo diciamo corpo completamente androgine poi è una Silvia fa arti performative diciamo più che attrice danzatrice è una performing artist perciò mi offriva non avendo un ragazzino tante cose su cui lavorare certo il lavoro dello psicanalista non è molto diverso cioè anche noi siamo convocati a creare no io la volevo ringraziare perché questo aspetto dell'evoluzione parlava di Steiner del percorso diciamo dell'uomo attraverso la vita e c'era tutto e quello che diciamo mi ha molto colpito questa è una mia suggestione perché è chiaro lei non l'ha indicato dunque immagino è incredibile quanto io ultimamente sto analizzando per me l'aspetto alchemico di Pinocchio cioè tutto quello che c'è dietro non alla favola che in maniera errata viene compresa ma l'evoluzione è incredibile come c'è anche questo aspetto che poi è legato l'evoluzione dell'anima di Steiner no? ma io vai vai finisci no e poi anche io non ho mai avuto dipendenze perché sono molto attenta non perché sono migliore o non è questo ho trovato eccezionale tutta la scena dell'eroina iniziale dove c'è veramente quasi è quasi un'allegoria come l'uomo cerca di essere felice in una dimensione che in realtà non sente propria no? oltretutto quella è un'isola ti potrebbe dare questa cosa del mare il Pinocchio grazie ad ogni modo questa cosa del Pinocchio io l'ho messa proprio insieme no ma io diciamo che io adesso sto lavorando da anni sul Don Quixote penso come come tu intendi Pinocchio nel senso che dentro queste storie ci sono tutti i simboli tutte le alchimie tutti i significati però grazie ecco qualcun altro qui davanti senta io appena ho cominciato ho visto in tutto Cipria e Maresco quanto c'entrano loro dentro questo film? allora diciamo che negli ultimi due miei film allora Cipria e Maresco ci sono allora parto dalla premessa Cipria e Maresco sono la miglior cosa che l'Italia ha avuto negli ultimi vent'anni perciò quando andano nel Cipria e Maresco non solo che contento detto questo il i miei ultimi due film dicono Cipria e Maresco ma diciamo che può essere un Cipria e Maresco neanche 2.0 3.0 cioè nel senso che sinceramente ci sono delle cosi ecco per esempio sei buona ti voglio scopare quella è Cipria e Maresco diciamo la scena però poi diciamo che ha delle cosine che magari faccio non pensando magari anche a Cipria e Maresco anche perché io di Cipria e Maresco ho visto Blob e la prima scena dello zio di Brooklyn quando si scopano un asino nient'altro niente proprio niente c'è anche il bianco e nero come loro c'è questo questo sadismo e questa volgarità come loro insomma moltissimo mi ha fatto ricordare sì diciamo che non ci combatto assolutamente quando si dice Cipria e Maresco però secondo me se si analizza il mio lavoro e quello di Cipria e Maresco sono molto diversi ma proprio molto ma tanto diversi ma anni luce anni luce sì sì le assicuro se analizza bene i lavori sono anni luce diversi intanto grazie sono felice di essere qui pensavo non sarei entrata per carenza dei posti sono molto felice volevo domandare circa la fotografia cioè la prima immagine di fronte alla quale ci troviamo è piena di luce nonostante questo è pieno di rumore digitale è ovviamente una scelta mi piace mi piace ma mi domandavo perché scusa piena di luce è piena di luce digitale non ho capito grana rumore digitale ma guarda quel rumore digitale non lo volevamo assolutamente davvero? sì sì con che macchina avete girato? 35 ok e perché il bianco e nero? bianco e nero perché fa parte di un trittico in bianco e nero ma non solo perché quando mi fa questa domanda diciamo che io dico sempre ma perché un film colore dal colore? non si fa mai questa domanda rovescia diciamo che è un vestito o il bianco e nero il colore perciò diciamo che non è tanto un vezzo ci sono delle storie che hanno bisogno di un vestito un fracco uno smoking oppure vai a una festa colorata ecco questo secondo me era un film nel quale è così evidente che la storia è raccontata bene il bianco e nero tutto sommato penso anch'io grazie ciao Davide grazie innanzitutto per il tuo coraggio e per la sincerità di oggi io credo tu abbia compiuto un'operazione incredibile unendo due attori ronconiani cioè Silvia Calderoni dalla Valdoca e Fabrizio Gifuni ovviamente diversamente ronconiani e la mia domanda è proprio su Fabrizio Gifuni come dopo Beckett come lo hai coinvolto di nuovo nel tuo lavoro come lui ha accettato il vostro rapporto insomma Fabrizio siamo amici voleva assolutamente non era neanche nel film voleva lavorare non me la sentivo di non farlo lavorare perché era per me importante che ci fosse allora abbiamo coinvolto lo scrittore Giuseppe Genna che tra l'altro come dire suggerisco chi non conosce Giuseppe Genna non perché abbia fatto questo monologo di Fabrizio suggerisco di andare a scoprirlo perché è uno dei più grandi autori che abbiamo in Italia e ha scritto sarà già sedicesimo diciassettesimo romanzo tra i quali una pietra migliare come si chiama Die Sire di dieci anni fa un libro di 800 pagine che tra l'altro Don De Lillo presenta in giro per il mondo per far capire come non si conosce ogni tanto in Italia si perdono di vista certi personaggi il Fabrizio mi ha presentato Genna anni fa poi Fabrizio non era in questo film e alla fine per riprendere ringraziare Fabrizio del fatto che mi aveva presentato Genna col quale stiamo scrivendo diverse cose assieme da anni aveva fatto due monologhi uno questo qua nel film e un altro che invece è andato negli extra del film perché non c'è stato spazio per montarlo Fabrizio è molto quello che ha fatto diciamo si è presentato quando aveva il monologo mi ha detto giusto dopo un mese mi ha detto va bene se te lo faccio in barese mi ha chiamato e ha detto ma se per te funziona farlo in barese ma no perché credo che possa funzionare perché l'altro giorno ero da solo in casa che me lo facevo in stanza e Sonia Bergamasco che sua moglie Sonia non sapeva che ero in casa ha sentito questa cosa e pensava che avesse ci fosse un barese in casa e perciò ha detto se Sonia c'è cascata può funzionare Fabrizio è molto preciso con le parole meno chi lo conosce l'avere visto teatro fa della della parola suo cavallo di battaglia perciò diciamo che uno che più le parole gli si danno e più lui arriva preparato è arrivato preparatissimo e bastava soltanto diciamo fare un lavoro di composizione perché sulle tre pagine che gli avevamo dato era un fulmine di guerra la prima di lasciarci vorrei fare un proporvi una piccola suggestione perché mi ha molto colpito ringrazio per questo anche io molto Davide Manuli perché ha ripreso un tema che per chi c'era ieri sera con Dario Argento ma anche diciamo anche con Bellocchio era stato in maniera molto interessante affrontato che era il tema della creatività e mi sembra che anche stasera Manuli non a caso cominciando a parlare del tema dei nostri incontri che è questo della memoria poi questo aspetto è tornato inesorabilmente fuori perché ha a che fare con un lavoro della nostra mente che non è soltanto artistico certo gli artisti lo portano alle estreme conseguenze ma allude sicuramente invece al nostro modo di poter affrontare la realtà e poterla in qualche modo come dire elaborare avendo la possibilità che noi abbiamo di sviluppare qualche cosa di nuovo questo qualche cosa di nuovo talvolta come ci dice il film stasera di Manuli è qualche cosa di molto perturbante che rischia di essere da noi stessi uccisi purtroppo qualche volta altre volte viene invece elaborato ti uccide proprio a livello proprio per farne un altro dopo ti uccide proprio ma questo è la grandezza appunto di voi artisti che riuscite a mantenere il contatto con questi nuclei e poterli elaborare allora purtroppo ci dobbiamo lasciare qui io ringrazio moltissimo i nostri ospiti sia Fabrizio Rocchietto che Davide Manuli e ci interrompiamo perché tra mezz'ora avremo un'altra proiezione grazie